Noi siamo assertori che sia addirittura sbagliato, ma che vada combattuta la mafia e il malaffare e create contestualmente le condizioni affinché ci sia una condizione per isolare il malaffare e la malapianta. Non ha dubbi il sindaco di Rogudi, Pierpaolo Zavettieri. La misura dello scioglimento dei comuni non è la ricetta giusta per risolvere il problema delle infiltrazioni mafiosi all'interno degli enti locali. Una tesi condivisa largamente all'interno della sala levato del Consiglio regionale dove si è discusso di nuove proposte di modifica all'attuale legge sulle amministrazioni locali. Al tavolo dei relatori anche l'ex presidente di Confindustria Reggio Andrea Cuzzocrea, lo scrittore Mimmo Gangemi, il magistrato Rocco Cosentino e Rita Bernardini del Partito Radicale. Tutti sono concordi nel ritenere che così come concevita oggi la normativa non risponde all'esigenza di sradicare fenomeni di infiltrazione andranghettistica. Non si può pensare che una legge che in 26 anni vede reiterato lo stesso provvedimento per due o tre volte e anche oltre perché ci sono anche quei commissariamenti quando, come il caso di San Luca, i cittadini non vogliono più andare alle urne perché hanno già la premessa da parte dello Stato che verranno sciolti o addirittura indagati per cose che non hanno fatto. Parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri metropolitani e sindaci devono unirsi in una proposta. Nel momento in cui centriamo questi obiettivi e facciamo delle proposte anche concrete dobbiamo investire un Parlamento che sia autorevole. Consolato Minniti per la CNews24